Ad Ariano in vacanza ha dovuto far ricorso per il proprio bambino alle cure della guardia medica. Il piccolo lamentava un dolore alle orecchie. Dopo la visita i genitori lamentano una paradossale situazione raccolta e rilanciata attraverso una nota pubblica da cittadinanza attiva Ariano Irpino. Ieri alle 18 quando la signora si è recata dalla guardia medica si è sentita infatti rispondere dai due sanitari in servizio che non potevano procedere alla visita in quanto sprovvisti di otoscopio non fornito dall'ASL. Viene spontaneo chiedersi se strumentazioni così elementari non facciano parte della dotazione basilare che ogni medico debba tenere nella propria borsa come se un sarto non avesse ago e filo scrive cittadinanza attiva nella nota richiedendo un intervento incisivo affinché episodi tanto spiacevoli non si ripetano con evidenti sovraffollamenti conseguenziali presso il pronto soccorso della vicenda è stata investita nella direzione generale dell'ASL Avellino.